Salve a tutti misi youtubers e bentornati dal vostro Ghetto Leggero Rosso 94 Benvenuti in questo nuovo video in cui vi voglio parlare di un giocatore inerente al tema dell'Inter e cioè ovviamente Gabi Goll un giocatore tanto discusso quanto amato dai tifosi interisti che nell'ultima trasferta di Bologna ha trovato la gioia del primo gol sagionale dando diciamo finalmente realtà al suo soprannome perché come tutti sapete il suo nome reale è Gabriel Barbosa nome per modo di dire perché i brasiliani alla fine si chiamano un po' come vogliono loro ma comunque partiamo un pochino dal principio partiamo dal momento in cui l'Inter ha deciso di acquistarlo nell'estate del 2016 l'Inter lo acquista per ben 27 milioni di euro 27-28 milioni comunque più o meno la cifra è questa e già di per sé questo diventa un acquisto molto promettente e tanto aspettato, tanto atteso dai tifosi di tutta Italia il giocatore però fin da subito comincia a trovare veramente poco spazio anzi addirittura zero spazio con Debor non giocherà praticamente mai se non due scampoli di partita contro il Bologna parliamo comunque di 4-5 minuti non di più e il giocatore verrà relegato in panchina e a volte anche in tribuna scatenando il malumore di tanti tifosi dell'Inter che vedevano al suo posto gente come Eder Palacio che a detta di molti non sono al livello del giovane brasiliano il brasiliano poi con l'arrivo di Pioli ha trovato leggermente più spazio non parliamo certo di partite clamorose però leggermente più spazio rispetto a prima si può dire che se prima giocava 0 partite su 100 adesso con Pioli ne gioca 5 su 100 facendo un po' diciamo delle percentuali però comunque nonostante questo è riuscito a trovare la via del gol un gol per carità molto molto facile ma che comunque era di importanza vitale per la partita dell'Inter come tutti sappiamo però Gabigol è uno di quei giocatori che non si riesce mai a giudicare in maniera coerente nel senso che prima era un bidone adesso è un fenomeno prima era una pippa pagata tanto adesso è un fenomeno paragonabile a Ronaldo perché ha segnato anche lui nello stesso giorno nello stesso stadio contro il Bologna ha le soldi con l'Inter eccetera eccetera allora secondo me serve un po' più di coerenza serve un po' più di attenzione e valutazione su certi giocatori perché secondo me l'ho detto anche adesso Gabigol non era un pippone prima e non è certo un fenomeno adesso serve un po' di calma comunque nelle valutazioni perché prima non si poteva giudicare perché non giocava mai e quindi non giocando mai non puoi dire se è forte o se è scarso non può dire che è fortissimo perché non l'ha visto mai giocare non può dire che è scarsissimo perché appunto non l'ha mai visto giocare mentre invece adesso vedo tanti interisti molti lo hanno detto scherzando però vedo alcuni interisti che dicevano seriamente che lui potrebbe essere l'erede di Ronaldo soltanto perché ha segnato anche lui il gol al Bologna in campionato io per carità la vedo più come una battuta che altro però se qualcuno veramente lo pensa seriamente questa cosa gli consiglierei di andare un pochino cauto con i paragoni o cose del genere perché non parliamo di un paragone tra due giocatori più o meno dello stesso livello saranno brasiliani avranno singlato entrambi al Bologna il primo gol con la Bacola Maia Nerazzurra però Ronaldo era già fortissimo ai tempi del Barcellona prima che andasse all'Inter mentre invece Gabriel Barbosa ha dimostrato qualcosa sì però in terra brasiliana che secondo me non è proprio la stessa cosa rispetto al campionato spagnolo io quindi questo volevo dirvi che comunque Gabigol è un giovane talento perché comunque finora ha dimostrato buone cose soprattutto nel campionato brasiliano e sono sicuro che se continuerà così e darà continuità al gol segnato contro il Bologna potrà essere una pedina fondamentale per l'attacco dell'Inter che già di per sé è molto folto ma che comunque vede dei giocatori che secondo me non sono più adatti al gioco dell'Inter guardiamo per esempio Palacio che ci mette tanto impegno però ha 35 anni sembra che ne ha 45 per quanto è lento e per quanto diciamo è calato tecnicamente quindi di conseguenza se io dovessi scegliere tra che schierare in campo nel secondo tempo per esempio uno tra Palacio e Gabigol scegliere ovviamente Gabigol perché Palacio lo vedo più attualmente come un giocatore che fa la chioccia piuttosto che un potenziale titolare o comunque una riserva di lusso quindi ovviamente i titolari intoccabili sono i Cardi Peresic e Candreva questi sono gli intoccabili però comunque darei qualche chance in più a Gabigol ma non tanto per il gol che ha fatto col Bologna perché lo ripeto è un gol molto facile l'avrei fatto pure io a occhi chiusi e io sono scarsissimo ve lo dico però cercherei di sfruttare al massimo questo suo momento emotivamente positivo ovviamente spero che non sia una gufata perché domani ci giochiamo noi quindi spero con tutto il cuore che domani non giochi oppure che se giochi faccia una partita inguardabile ci mancherebbe altro però dopo Inter-Rome in poi io fossi nell'allenatore gli darei diverse possibilità per vedere se questo gol è stato un episodio diciamo unico in una stagione negativa oppure se possa essere stato l'inizio di una nuova carriera se così si può dire per il brasiliano con la maglia nerazzura comunque era un semplice consiglio a tutti quanti di stare calmi con le valutazioni su questo giocatore perché non era pippa prima non è un fenomeno clamoroso adesso è un buon giocatore molto molto giovane perché addirittura ha due anni meno di me quindi sicuramente ha ancora tantissimo tempo per dimostrare il proprio valore vediamo un po' come si evolverà il futuro di questo giocatore fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di Gabigol sia interisti che tifosi di altre squadre fatemi sapere se secondo voi è un giovane talento ancora tanto per dimostrare o secondo voi proprio tecnicamente non ci siamo e che non fa parte per l'Inter tutto quello che sapete comunque volete dirmi su questo giocatore fatemelo sapere qua sotto nei commenti lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale per non perdere i miei prossimi video e per chi fosse interessato ad un altro argomento legato al tema milanese non però questa volta parliamo di milan e non di inter ci sarà un video che uscirà più tardi sempre su questo canale sempre sulla rubrica talking about un saluto e sempre forza Roma ciao ragazzi